della regione Veneto, lo sviluppo economico Isi Coppola, un momento importante e significativo. Parliamo anche di rilancio di un settore strategico per l'economia della nostra regione, del nostro paese. Un rilancio non solo strategico per un settore importantissimo, ma direi un rilancio dovuto e meritato, perché con imprenditori che si cimentano in avventure così straordinarie, così innovative, con una lungimiranza così grande, credo sia un segnale di grande forza non solo dell'imprenditoria Veneta, ma anche di un settore che vuole assolutamente credere che ci possa essere e che ci deve essere un domani di ripresa. E questi sono anche i messaggi che io mi auguro possano essere colti da tanti altri imprenditori che in questo momento magari non sono nelle stesse condizioni di riuscire anche a guardare oltre magari la quotidianità e le difficoltà del giorno, ma credo sia un segnale importante proprio per questo, per dire come c'è stato il grande fenomeno del nord-est e del Veneto, quello di emulare chi effettivamente poi riesce a mettere ancora una volta in circolo economia, lavoro, ma soprattutto passione, tantissima passione, credo sia questa poi la grande differenza che fa l'imprenditore Veneto nord-estino con il resto degli altri imprenditori. Quella capacità di poter credere nelle proprie forze, nelle proprie opportunità e saperle mettere anche a disposizione di una società che può crescere. Noi come istituzioni dobbiamo essere assolutamente accanto con strumenti semplici, semplificati nella burocrazia, con risorse fresche, senza più poterci versare, poterci permettere di perdere nulla, neanche una virgola, ma accanto a imprenditori, proprio non solo evidentemente a quelli che sanno, possono e credono di superare anche questo momento, ma anche a tutti gli altri che con tanti strumenti che abbiamo messo in campo in questi anni stiamo cercando di arrivare insieme a tutti appunto a vincere la sfida della ripresa. Grazie.